Sono Lalla Lussu e sono presente alla mostra Pani e Madri con la mia opera Giardini di Passaggio. La mia opera nasce da una rivisitazione dell'opera che ho presentato al Museo di Legnano nel 2014 e l'ho potuta realizzare in maniera più amplificata, con una realizzazione sempre su carta e sisa creando una situazione per cui il grano germinato è presente nel processo di realizzazione del pane. Non presento il pane vero e proprio, ma presento semplicemente il processo. Questo mi permette di creare in grande o in piccolo, come preferite, un focus su ciò che intendo rappresentare, e cioè quel processo che porta a vedere dei significati diversi anche in cose che apparentemente ne hanno altre. Quindi noi, io voglio portare lo spettatore a vedere in piccolo ciò che si può vedere in grande, in grande ciò che si può vedere in piccolo. Un'attenzione particolare a tutto ciò che ci circonda e ancora più in particolare al mondo vegetale.